Presentata a Bari l'ottava edizione del Festival del Racconto, il film organizzato dalla cooperativa sociale Bambini di Truffaut, diretta da Giancarlo Visitilli, unico appuntamento del Sud Italia che coniuga cinema, letteratura e sociale. 26 gli appuntamenti, 30 i libri che saranno presentati, 25 le proiezioni di film, 9 le anteprime regionali, 2 le performance teatrali ed una lezione aperta di letteratura italiana. 6 le location, Bari, Bitonto, Giovinazzo, Polignano, Sandicandro, al ritorno dopo alcuni anni e Palo del Colle che per la prima volta ospita la manifestazione. Questo è un festival che ha due peculiarità, riconosciute anche dal Ministero. È l'unico festival del Sud Italia che associa il cinema e la letteratura su temi sociali, in quanto è organizzato da una cooperativa sociale che si chiama I Bambini di Truffaut, che si occupa per lo più di bambini, bambine e adolescenti, è disagio per lo più. L'altra cosa che ha il carattere itinerante, l'idea di portarlo in giro in vari comuni significa per noi continuare un lavoro che si fa per tutto l'inverno, l'autunno e l'inverno. Al via il prossimo 23 giugno, da San Nicandro, nella corte del castello Normanno Svevo, per concludersi poi il 30 luglio a Bari, con la notte bianca cinema e letteratura di Puglia, il festival, una vera e propria maratona della cultura, animerà piazze e castelli pugliesi. Alla presentazione dell'evento, oltre di vari sindaci delle località ospitanti dal direttore della rassegna, sono intervenute l'assessore alle politiche educative giovanili del comune di Bari, Paola Romano, ed il consigliere metropolitano con deleghe beni culturali attuazione del programma, Francesca Pietroforte. Rispecchia lo spirito del nostro ente di area vasta, quello di far sì che i comuni dialoghino tra di loro e che realizzino delle manifestazioni che tocchino più piazze, più beni culturali, che arricchiscono il nostro territorio. Un momento importante per la città perché ci ritroviamo tutti insieme in due piazze importanti, Largo Atoa e Largo Redentore, quindi un momento di comunità.